Una due giorni, 1 e 2 luglio, ricca di iniziative per celebrare il centenario della bandiera di guerra del nono reggimento alpini che fu consegnata al primo comandante del reggimento il primo luglio del 1921, la bandiera più decorata dell'esercito italiano, in conferenza a presentare all'iniziativa il comandante del reggimento, il colonnello Gianmarco Laurencing, lo storico e giornalista Francesco Fagnani, il presidente dell'Anabruzzi Pietro D'Alfonso e il giornalista Massimo Lesi. Tra le tante cose che si faranno il primo luglio, Piazza Duomo ospiterà una mostra statica aperta al pubblico, dalle 17 si esibirà la fanfara della brigata alpina taurinense. Il giorno successivo le attività si svolgeranno all'interno della caserma con vari appuntamenti dedicati alla bandiera di guerra, alla quale è concesso un'ulteriore decorazione che verrà posta proprio il 2 luglio, una medaglia d'oro al merito concessa dalla Croce Rossa per il supporto alla popolazione nelle principali calamità che si sono susseguite negli anni. Le attività del nono sono molteplici, dalle ordinarie al supporto nelle calamità, passando per il grande impegno nella campagna vaccinazioni. Cento anni di bandiera di guerra del nono reggimento alpini, cento anni di storia del nono reggimento alpini. Per me è un grande onore, un grande orgoglio, una grande soddisfazione ma soprattutto anche una grande emozione. Ora come allora, le donne e gli uomini del nono reggimento alpini, sempre a disposizione per svolgere tutte le attività che sono richieste. Sarà presente l'Associazione Nazionale Alpini che ad agosto farà un campo scuola in città alla Caserma Rossi. Questo campo scuola inizierà il 17 di agosto fino al 28 di agosto. La partecipazione è del centro-sud, ossia del quarto raggruppamento a partire da Firenze per arrivare in Sicilia. Questo campo scuola sarà un periodo, un momento in cui ai ragazzi si cercherà di trasmettere delle regole militari che possono aiutare in alcuni momenti a fare quello che il giovane vuole. Il primo luglio ci sarà anche un convegno storico in cui si parlerà degli alpini di ieri e di oggi. In particolare pensando per esempio alla Russia, cercheremo di sviluppare il concetto antropologico del reclutamento degli alpini che portava intere parti di paese a ritrovarsi all'interno della stessa trincea. E come questo fattore, probabilmente è stato un fattore che ha consentito a molti di questi ragazzi un passo in più per riuscire a tornare a casa.